Abbiamo investito molto negli ultimi anni in Emilia, è giunto il momento per noi di affacciarci anche alla Romagna, l'abbiamo fatto nel recente passato a Ravenna e abbiamo deciso di spingerci oltre, di arrivare a Misano Adriatico, presentarci con un negozio di qualità affacciato sulla statale adriatica, proprio per farci vedere e farci conoscere anche dal popolo romagnolo. Allora, diciamo che è un negozio innanzitutto di una metratura a misura d'uomo, quindi diciamo che siamo intorno agli 800 metri e anche se la disposizione del negozio, come è fatto, ci dà la percezione che sia molto più grande. Quindi diciamo che è un format despar, in realtà può apparire, diciamo così, andando un po' in profondità, quasi più un eurospar e più di un despar. Abbiamo allestito, aperto questo punto vendita in due settimane con un gruppo di lavoro con una altissima professionalità che ha appunto reso possibile questo obiettivo. Un gruppo di lavoro formato da tante persone nuove, persone del territorio, persone che durante la fase colloquiale manifestavano questa volontà, questa voglia di avere una stabilità lavorativa diversa da quanto fino ad ora avevano avuto, una stabilità lavorativa che era prettamente concentrata sulla stagionalità. Sì, oggi si inaugura questa struttura di vendita nuova, è un punto di vendita interessante per Misano perché è un'opportunità nuova che noi abbiamo per il territorio e che forniamo ovviamente ai nostri abitanti e ai nostri turisti del territorio. Abbiamo parlato anche con la proprietà, con i gestori e sappiamo che c'è stato l'impegno nel lavorare costantemente alla ricerca anche di prodotti locali, insomma, quindi il rapporto diretto col territorio e quindi questo è un altro elemento importante perché vuol dire arricchire ulteriormente quella che è l'economia del nostro territorio e questo per noi è appunto molto importante.